Ciao, sono Elisabetta Canalis. Ogni 20 secondi muore un bambino. Ogni 20 secondi deve suonare un campanello d'allarme. Sono convinta che insieme all'Unice possiamo raggiungere ogni bambino, raggiungere il 100%. Vacciniamoli tutti. Dona ora. Allora arriva anche nell'area grecanica, ovviamente in provincia di Reggio Calabria, l'impegno importantissimo della ONG Unicef che conosciamo tutti ma che dobbiamo sempre di più aiutare sul territorio. Infatti siamo qui con Isabella Palamara che è la responsabile Unicef del circolo area grecanica in compagnia di Giussi Tripodi, sempre del circolo area grecanica e poi con il presidente Unicef della provincia di Reggio Calabria, Pietro Marino. Io direi di cominciare da più vicino, poi ci spostiamo all'ambito più ampio. Isabella, responsabile Unicef, dicevamo, dell'area grecanica. Abbiamo due eventi che stanno arrivando molto importanti di quest'agosto Unicef, molto seguito dai cittadini melitesi e non solo. Esatto, siamo partiti domenica con il torneo di beach volley, abbiamo proseguito ieri sera con la sfilata di moda e continueremo sabato con la Melito in bici, una pedalata ecologica per grandi e piccini e poi concluderemo domenica con il Festival Nazionale del Cabaret Facce da Bronzi in piazza Portosalvo. E quindi Giussi, sabato 23 ci sarà, dicevamo, questo giro ecologico, tutti i bambini saranno impegnati in questa attività per l'estate di Melito. Dici qualcosa in più. Bambini e non solo, aspettiamo anche gli adulti e i bambini in particolare verrà distribuito un diplomino, gli adulti magari no, non glielo diamo. Però vi aspettiamo numerosi, è un segno, un mettersi in cammino tutti insieme per aiutare chi è meno fortunato di noi. Ecco, ci aspettiamo una grande partecipazione, come del resto anche ieri sera c'è stata. E poi come spesso avviene, anche con un sorriso, si cerca di aiutare il prossimo, si cerca di fare del bene e quindi del volontariato. Domenica ci sarà il Festival Internazionale, vediamo, del Nazionale, scusate, del Cabaret Facce da Bronzi, ma anche internazionale perché volendo le nostre riprese andranno un po' in giro per il mondo, quindi speriamo che poi magari da fuori, chissà, magari anche dall'Australia, apprezzino i nostri cabarettisti. A chi cedo la parola? Qualche informazione in più su questo festival molto variegato? Festival che si svolge per il secondo anno nella provincia di Reggio Calabria e vedrà artisti provenienti da tutta Italia. Gli ospiti della serata saranno i Fratelli Lotumolo direttamente da Colorado, quindi ospiti nazionali. È patrocinata dall'Associazione Calabria Detro le Quinte dei Non Ti Regoli, gruppo comico Peppe Mazzacuba e Peppe Scorza. E speriamo di farvi divertire, come hai detto tu, donare prima di tutto un sorriso, la beneficenza si fa sorridendo. E quindi questo invece l'appuntamento è alle 21, sempre in Piazza Portosalvo, sul lungomare dei Mille, quindi a Melito. Area grecanica, l'Unicef ha una sezione, io dicevo sezione, ma in realtà si chiama circolo, è un circolo dell'area grecanica, quindi volto a tutte le città di questa zona, ma tutto poi confluisce in quello che è l'Unicef Provinciale di Reggio Calabria. Pietro Marino, presidente per l'appunto dell'Unicef Provincia di Reggio. Bene, buongiorno, intanto grazie per la disponibilità e per lo spazio che ci dedicate. L'affetto che ho notato in queste prime battute dell'agosto Unicef è veramente disarmante. Melito e l'area grecanica si stanno confermando realmente come capitali della solidarietà. In questo momento poi particolarmente grave, difficile, un po' per tutti, si riscopre il tema della solidarietà e questo è molto bello. Tante sono le persone che stanno partecipando agli eventi, spero che altre tante partecipano in questo grande momento di gioia, di partecipazione, di festa e di dono agli altri due eventi, Melito in Bici e il 24, il Festival Nazionale di Cabaret. Questi sono una serie di disegni di cui la provincia si sta disseminando, si stanno rivelando. Con grande entusiasmo abbiamo creato negli ultimi due anni quattro circoli importanti, tra cui quello di Melito che è arrivato, l'ultimo nato, è arrivato il 12 luglio. L'abbiamo tenuto a battesimo presso l'hotel Serrano. Che dire, il volontariato fatto col cuore è un percorso difficile. La gratuità però rende tanti milioni di bambini felici. In questo senso tutte le nostre attività sono destinate al sostegno dei programmi di lotta alla mortalità infantile. Pensate solo che ogni giorno praticamente 18 mila bambini muoiono per cause prevenibili, cioè per quelle cause che noi in Occidente siamo riusciti a sdravicare. la polio, il tetano, la polmonite, la diarrea sono cause che da noi, i nostri bambini ormai sono ben curati e quindi non rischiano. Invece negli otto paesi dell'Africa subsahariana dove operiamo, questo è il numero nefasto che 18 mila bambini al giorno, voglio dire una cifra incredibile. Noi ci battiamo per questo, per sostenere e finanziare i progetti salva vita. Devo ringraziare in maniera particolare e con grande affetto quello che sta succedendo sull'area di merito. È un esempio veramente altissimo di come si può stare insieme, gioiendo in eventi anche di questo tipo e contemporaneamente dare un contributo fondamentale a chi probabilmente non avrebbe altra chance. E quindi l'impegno nei prossimi mesi ancora dell'unice fin provincia di Reggio Calabria e quindi nei circoli territoriali sarà molto importante anche perché c'è una situazione anche in Medio Oriente a cui bisogna guardare per non parlare della situazione africana. abbiamo due medici, anzi abbiamo un medico e la moglie poi che sono di ritorno dal Sierra Leone dove l'ebola sta dilagando, le avremo anche ospiti tra l'altro qui in studio a Telemelite Radio Studio 95 e lì la situazione è terribile, un occhio di riguardo in più per i bambini. Quindi la provincia di Reggio Calabria con l'unicef nei prossimi mesi, l'impegno quale sarà? Allora, noi gli impegni ne abbiamo tantissimi e tantissimi ne sottoscriveremmo, come nel caso di Nunziella e Tino e Tito Squillaci che hanno operato per mesi all'interno di un ospedale in Sierra Leone, mettendo anche a rischio, diciamo, anche se loro l'hanno fatto col cuore quindi non hanno pensato a questa fase qui. Purtroppo devono terminare la loro esperienza prima del previsto. Ricordiamo che erano di ritorno a dicembre, almeno questa era la previsione della ONG. Però i tempi li abbiamo anticipati in quanto stiamo ritirando tutto il personale perché Ebola è un osso duro. Fra le altre cose ci stiamo impegnando in modo particolare per una campagna che è quella che finanziano queste azioni per raccontare anche come vengono spesi i soldi che le varie Isabella, Giussi, eccetera, raccolgono per le piazze italiane. Allora, la nostra necessità è quella di finanziare. In un primo step a partire dal primo settembre e per tutto il mese di settembre si terrà una campagna internazionale massiva di vaccinazioni che coinvolgerà 24 milioni di persone. Il secondo step di questa campagna sarà di 22 milioni di persone e noi per questo stiamo andando dietro a raccogliere fondi perché vogliamo alzare un muro sanitario prevenendo certi fatti. Anche perché poi come Italia abbiamo anche il doppio peso. Noi stiamo accogliendo migliaia e migliaia di immigrati e lo facciamo con grande gioia. La parte di prevenzione sanitaria, sanitarizzazione, eccetera, è veramente pesante. Io non so se l'Europa sotto questo aspetto collaborerà. Ho letto di qualche non già il che avvalora la tesi che noi sosteniamo che queste persone vanno aiutate nei loro paesi così come facciamo da anni noi lì. Anche con formazione. Formazione soprattutto perché poi parliamo di popoli che hanno una cultura diversa dalla nostra, abitudini diverse dalle nostre. Infatti il nostro sforzo maggiore nella fase, diciamo, nella prima fase dei luoghi dove accediamo o realizziamo i progetti è proprio quella della formazione culturale. Tenete conto che noi lì facevamo addirittura e facciamo le campagne per fargli capire nelle varie tribune, nelle varie posizioni dove sono queste persone, l'importanza del lavarsi le mani. Quindi partiamo all'ABC. È una lotta impari, però è una lotta tutta da fare per il futuro loro e per il futuro nostro, io aggiungerei. La statistica in questo mi aiuta perché poi alla fine, come vediamo, i casi di TBC scabbia eccetera, cominciano ad apparire. Questa non ci deve spaventare perché noi abbiamo tutti i mezzi, gli strumenti per governare queste situazioni, individuarle e curarle. Qua non si tratta di sparare sulle barche che arrivano, si tratta di organizzarsi in maniera adeguata. Certo, se UNICEF fosse, là dove opera, ancora più appoggiata e avessi i fondi necessari per poter completare i programmi come quello, 100% vacciniamoli tutti, forse il compito sarebbe meno gravoso per tutti. E quindi è il compito dei cittadini dell'area grecanica e dei cittadini della provincia di Reggio Calabria è quello di sostenere le iniziative UNICEF, non solo quelle del 23 e del 24, che le ricordiamo, una è Melito in Bici, il giro ecologico di sabato per la Punto 23 in partenza da Piazza Portosalvo, poi sul Lungomare dei Mille, poi domenica il Festival Facce da Bronzi, il Cabaret alle 21, sempre sul Lungomare dei Mille in Piazza Portosalvo. Quindi non solo queste manifestazioni, ma un sostegno che deve arrivare anche in futuro e deve arrivare anche in maniera trasversale da tutti i comuni, da tutti i cittadini che possono farlo della nostra provincia e magari speriamo un giorno anche dalle istituzioni. Quindi grazie a Pietro Marino, presidente UNICEF della provincia di Reggio Calabria, Isabella Palamara e Giusy Tripodi dell'UNICEF dell'area grecanica. Palamara e Giusy Tripodi dell'Università di Reggio Calabria, Giusy Tripodi dell'Università di Reggio Calabria Palamara e Giusy Tripodi dell'Università di Reggio Calabria, Giusy Tripodi dell'Università di Reggio Calabria